Cambiare tutto perché nulla cambi, ristrutturazione dai toni gattopardeschi per Aramco, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita, tra le più grandi al mondo, con un miliardo di dollari di fatturato generati al giorno, sarà separata dal Ministero del Petrolio. Il nuovo Consiglio Supremo del Gigante sarà diretto dal neo-viceprincipe ereditario Mohamed bin Salman, che è anche Ministro della Difesa. La mossa fa parte del rimpasto ai piani alti del governo, voluto dal re Salman bin Abdelaziz, ma per gli esperti non cambierà nella sostanza la politica petrolifera della principale potenza del Golfo.